Oggi è il 2 aprile e noi continuiamo a raccontare le avventure del nostro burattino Pinocchio. Siamo al nono capitolo. Vediamo un po' che cosa accade in queste pagine. Pinocchio vende l'abbecedario per andare a vedere il teatrino dei burattini. Allora allora iniziamo a raccontare. Smesso che fu di nevicare Pinocchio col suo bravo abbecedario nuovo sotto il braccio prese la strada che portava alla scuola. E strada facendo fantasticava nel suo cervellino mille ragionamenti e mille castelli per aria, uno più bello dell'altro. E parlando fra sé diceva Oggi alla scuola voglio subito imparare a leggere. Sì, domani poi imparerò a scrivere e domani l'altro imparerò a fare i numeri. Poi con la mia abilità guadagnerò molti quattrini e coi primi quattrini che mi verranno in tasca voglio subito fare al mio babbo una bella casacca di panno. Ma che dico di panno? Gliela voglio fare tutta d'argento e d'oro. Sì, e coi bottoni di brillanti. Ecco il pover uomo se la merita davvero perché insomma per comprarmi libri e per farmi distruire è rimasto in maniche di camicia con questo freddo. Non ci sono che i babbi che siano capaci di certi sacrifici. Mentre tutto commosso diceva così, gli parve di sentire in lontananza una musica di pifferi ed i colpi di gran cassa. Si fermò e stette in ascolto. Ah, che cosa stava accadendo? Quei suoni venivano, venivano dal fondo, dal fondo lontano di una lunghissima strada che conduceva a un piccolo paesetto fabbricato sulla spiaggia del mare. Che cosa sarà questa musica? Peccato che io debba andare a scuola, se no quasi quasi. Rimase lì perplesso a pensare. Ad ogni modo bisognava prendere una risoluzione. O a scuola o a sentire i pifferi. Bah, oggi andrò a sentire i pifferi e domani andrò a scuola. Per andare a scuola c'è sempre tempo. La scuola è sempre là. E i pifferi non sono sempre là, disse finalmente quel monello facendo una spallucciata. Detto fatto, infilò giù per la strada attraversa e cominciò a correre a gambe filate. Più correva e più sentiva distinto il suono dei pifferi e dei tonfi della gran cassa. Quando ecco che si trovò in mezzo a una piazza tutta piena di gente, la quale si affollava intorno a un gran baraccone di legno e di tela dipinta dai mille colori. E Pinocchio domandò. E che cos'è quel baraccone? Leggi il cartello che c'è scritto e lo saprai, gli risponde un ragazzetto del paese. Eh, io lo leggerei volentieri, ma per l'appunto oggi, soltanto oggi, io non so leggere. Bravo bue, allora te lo leggerò io. Sappi dunque che in quel cartello a lettere rosse come il fuoco c'è scritto Gran Teatro dei Burattini. Ah, Gran Teatro dei Burattini. È molto che è incominciata la commedia? E comincia ora. Ah, e quanto si spende per entrare? Si spende quattro soldi. Pinocchio, che aveva addosso la febbre della curiosità, perse ogni ritegno e disse senza vergognarsi al ragazzetto col quale parlava. Senti, mi daresti quattro soldi fino a domani? Eh, te li darei volentieri, gli rispose l'altro canzonandolo. Ma oggi per l'appunto non te li posso dare. Oggi per l'appunto non te li posso dare. Per quattro soldi ti vendo la mia giacchetta, ti piace? Guardala bene, è bellissima. Ma che vuoi che mi faccia di una giacchetta di carta fiorita? Se ci piove su, non c'è più verso di cavarsela di dosso. Ah, allora vuoi comprare le mie scarpe? Non sono belle, sono buone forse per accendere il fuoco. Allora guarda il mio berretto, ti piace? È un cappelluccio a cono, tutto rosso. Quanto mi dai per il berretto? Ah, bell'acquisto davvero. Un berretto di midolla di pane? E poi non è rosso. C'è il caso che i topi me lo vengano a mangiare in capo. Pinocchio era sulle spine. Stavale lì per fare un'ultima offerta, ma non aveva il coraggio. Esitava, tentennava. Insomma, alla fine disse. Vuoi darmi quattro soldi per questo abbecedario nuovo? Io sono un ragazzo e non compro nulla dai ragazzi, gli rispose il suo piccolo interlocutore, che aveva molto più giudizio di lui. Per quattro soldi l'abbecedario lo prendo io, gridò un rivenditore di panni usati che s'era trovato presente alla conversazione. E il libro fu venduto lì lì su due piedi. E pensare che quel pover'uomo di geppetto era rimasto a casa, a tremare dal freddo, in maniche di camicia, per comprare l'abbecedario al suo figliuolo. Ed ora passiamo al capitolo numero 10, dove Pinocchio incontra i burattini. Lo riconoscono come fratello, perché è tutto di legno e voi sapete che i burattini sono di legno. E quindi sul più bello esce fuori il burattinaio mangiafuoco e Pinocchio corre il pericolo di fare una brutta fine. Allora, quando Pinocchio entrò nel teatrino delle marionette, accadde un fatto che destò una mezza rivoluzione. Bisogna sapere che il sipario era tirato su e la commedia era già incominciata. Sulla scena si vedevano Arlecchino e Pulcinella che bisticciavano fra di loro, come al solito, e minacciavano, da un momento all'altro, di scambiarsi un carico di schiaffie e di bastonate. La platea, tutta attenta, si mandava a male dalle grandi risate, nel sentire il battibecco di quei due burattini che gestivano e si trattavano ad ogni vitupero con tanta verità. come se fossero proprio due animali ragionevoli e due persone di questo mondo. Quando all'improvviso, che è, che non è, Arlecchino smette di recitare e voltandosi verso il pubblico e accennando con la mano. Qualcuno in fondo alla platea comincia a urlare in tono drammatico. «Oh, nomi del firmamento! Sogno son d'esto! Eppure quello laggiù è Pinocchio! Pinocchio, ma sei tu!» «È Pinocchio davvero?» grida Pulcinella. «Eh sì, è proprio lui!» strilla la signora Rosaura facendo capolino in fondo alla scena. «È Pinocchio! È Pinocchio!» urlano tutti in coro. «Pinocchio! Pinocchio! Pinocchio!» «È il nostro fratello! È viva! È viva Pinocchio!» «Pinocchio, vieni quassù da me!» grida Arlecchino. «Vieni a gettarti fra le braccia dei tuoi fratelli di legno!» A questo affettuoso invito Pinocchio spicca un salto e di fondo alla platea va nei posti distinti. Poi, d'un altro salto, dai posti distinti monta sulla testa del direttore d'orchestra e di lì schianta sul palcoscenico. È impossibile figurarsi gli abbracci, gli strizzoni di collo, i pizzicotti dell'amicizia e le zuccate della vera e sincera fratellanza che Pinocchio riceve in mezzo a tanto arruffo dagli attori, dalle attrici e dalle attrici di quella compagnia drammatico-vegetale. Questo spettacolo era commovente, non c'è che dire, ma il pubblico della platea, vedendo che la commedia non andava più avanti, si impazientì e prese a gridare «Vogliamo la commedia! Vogliamo la commedia! Vogliamo la commedia!» Tutto fatto buttato via? È anche il fiato buttato via, perché i burattini, invece di continuare la recita, raddoppiavano il chiasso e le grida, e postosi Pinocchio sulle spalle, se lo portarono in trionfo davanti ai lumi della ribalta. Allora uscì fuori il burattinaio, un umone così brutto che metteva paura soltanto a guardarlo. Aveva una barbaccia nera come uno scarabocchio di inchiostro e tanto lunga che gli scendeva dal mento fino a terra. Basta dire che quando camminava se la pestava sotto i piedi. La sua bocca era larga come un forno. I suoi occhi parevano due lanterne di vetro rosso, con lume acceso di dietro, e con le mani faceva schioccare una grossa frusta fatta di serpenti e di code di volpe attorcigliate insieme. All'apparizione inaspettata del burattino, ammutolirono tutti. Nessuno fiatò più. Si sarebbe sentito volare una mosca. Quei poveri burattini, maschi e femmine, tremavano tutti come tante foglie. Perché sei venuto a mettere lo scompiglio nel mio teatro? domandò il burattinaio a Pinocchio con un vocione d'orco gravemente infreddato di testa. La creda illustrissimo che la colpa non è stata mica mia. Basta così. Stasera faremo i nostri conti. Difatti, finita la recita della commedia, il burattinaio andò in cucina, dove egli s'era preparato per cena un bel montone che girava lentamente infilato nello spiedo. E perché gli mancavano le legna per finirlo di cuocere e di rosolare, chiamò Arlecchino e Pulcinella e disse loro portatemi di qua quel burattino che troverete attaccato al chiodo. Mi pare un burattino fatto di un legname molto asciutto e sono sicuro che a buttarlo nel fuoco mi darà una bellissima affiammata all'arrosto. Arlecchino e Pulcinella da principio esitarono, ma impauriti da un'occhiataccia del loro padrone, obbedirono e dopo poco tornarono in cucina portando sulle braccia il povero Pinocchio, il quale, divincolandosi come un'anguilla fuori dell'acqua, strillava disperatamente «Oh babbo mio, babbo mio, salvatemi! Non voglio morire! Non voglio morire! Vi prego, non fatemi morire!» E qui finiamo il decimo capitolo delle avventure di Pinocchio. Ci troveremo molto presto. Ciao a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!